otto cose degli uomini che dovrebbero allarmarti se sei una donna che vuole relazionarsi con un uomo dovresti prima verificare se sono presenti otto cose perché se sono presenti queste otto cose beh forse non vale la pena portare avanti la relazione forse anzi senza forse diciamo che non è la persona giusta per sviluppare una relazione questo è fondamentale devi tenerlo presente perché se tu continuerai a insistere con questa persona ne riceverai soltanto sofferenze ne riceverai soltanto situazioni estremamente negative per cui è veramente importante evitare assolutamente evitare a tutti i costi di vivere come dire una storia d'amore con una persona che ha queste caratteristiche questo te lo posso garantire diciamo così è un qualcosa di definito che dovresti prendere in considerazione quali sono queste otto cose che suonano devono suonare come un campanello d'allarme e quindi spingerti ad allontanarti da questa persona spingerti ad allontanarti da questa relazione perché allontanarsi in questo caso è l'unica cosa utile che tu puoi fare l'unica cosa che ha un senso che tu faccia allora la prima cosa è se non investe nella relazione tieni presente che c'è una regola matematica quasi direi che se una persona non investe nella relazione non può assolutamente non può assolutamente chi non investe nella relazione ottenere dei diciamo sperare che si innamore perché un uomo si innamora se e solo se investe nella relazione questo spiace dirlo ma se tu continua a stare con un uomo che non investe nella relazione che non ti dà quello che vorresti c'è poco da fare non riuscirai a ottenere nulla da questa situazione non riuscirai a ottenere nulla da questa persona è un è un dato di fatto è un qualcosa che devi prendere in considerazione molto importante il secondo punto che devi tenere in considerazione è se una persona non riconosce non ammette mai le proprie colpe un uomo che non ammette mai le proprie colpe ti trascinerà in una relazione tossica un uomo che vuole andare diciamo avere sempre ragione che vuole sempre diciamo avere lui come dire essere sempre quello che ha la ragione della sua parte beh sicuramente posso garantiti che non è assolutamente la persona giusta non è assolutamente la persona che devi prendere in considerazione e ce ne sono tanti spesso se sei una che tende ad attribuirsi le colpe che tende a vivere il senso di colpa tenderai tu ad attribuiti le colpe tenderai tu a diciamo a pensare è colpa mia è colpa mia qua è colpa mia là e questo ti porterà a non a non essere felice a non essere in armonia terza cosa è se quest'uomo è ermetico se non parla mai di sé se è chiuso ha qualcosa da nascondere diciamo così o non è coinvolto nel ne frega assolutamente niente oppure ha qualcosa da nascondere perché le persone che sono lineari trasparenti si aprono sono non sono chiuse tendono ad aprirsi tendono a manifestare insomma anche quelle che sono quella che è la loro interiorità se una persona è chiusa vuol dire che sicuramente non è coinvolta perché se fosse coinvolta si aprirebbe ma vorrei vuole anche dire che comunque vuole nascondere qualche cosa potrebbe essere un'altra storia potrebbe essere un'altra relazione qualcosa da nascondere però ti posso garantire che ce l'ha quarto punto ti tratta come se fossi una sua dipendente come se lui fosse il capo e tu fossi la dipendente e questo è un'altra caratteristica che hanno gli uomini che vogliono diciamo che che sono da tenere in considerazione eventualmente per una relazione così trasgressiva diciamo ma non per non pensarli come persone con le quali poter costruire qualcosa perché tendenzialmente sono possessivi se non se non narcisisti e comunque vogliono sempre avere loro il controllo della situazione vogliono essere sempre dominanti quinta quinta cosa che dovrebbe diciamo allarmati di un uomo e se ha degli standard o aspettative confuse non sa quello che vuole e cambia relazioni alla velocità della luce o cambia anche punto di vista alla velocità della luce oggi ti sposo domani no oggi mi piaci domani no oggi sei bella domani sei un cesso e quelli che agiscono in questo modo che manifestano diciamo tutte queste variabili queste differenze purtroppo o per fortuna sono persone inaffidabili non hanno affidabilità devi renderti conto di questo se vuoi evitare diciamo di tra virgolette fare una brutta fine brutta fine nel senso di restare invischiata in situazioni che non ti porteranno niente di buono fondamentalmente questo purtroppo è un qualcosa che devi prendere in considerazione e quindi persone che cambiano idea che oggi sono in un modo domani sono nell'altro dopo non ancora nell'altro da tenere presente sesta sesta cosa che dovrebbe diciamo così allarmarti di un uomo sesta cosa di un uomo che dovrebbe allarmarti è se vuole cambiare se vuole cambiarti o vuole cambiare il tuo modo di essere vuole cambiare il tuo modo di fare cioè vuole interagire con te non gli vai bene come sei ti vuole diversa sono quelli che cercano la santa per trasformare in puttana quelli che cercano la puttana per trasformare in santa ma comunque vogliono sempre cambiare vogliono sempre modificare e queste persone devi tenere presente che non vanno bene cioè devi toltre dei maroni al più presto questo dato di fatto insomma e poi un'altra un'altra cosa che diciamo un'altra caratteristica dovrebbe armarti e se questa persona diciamo ti tiene nascosta cerca di vivere una relazione quasi come fosse una relazione segreta non ti presenta agli amici non ti presenta a nessuno tieni presente che se vuole tenerti nascosta è perché comunque non è coinvolto comunque non è innamorato di te e l'ottavo punto l'ottava cosa che dovrebbe allarmarti di un uomo è se è spesso meschino ad esempio potrebbe aiutarti ma non lo fa potrebbe fare qualcosa per te ma non la fa potrebbe comportarsi in un certo modo ma non lo fa ecco queste se noti queste otto cose chiudi la relazione allontanati da miretta non portare avanti una relazione che di fatto non ti potrà mai e poi mai dare qualcosa di buono bene per questo video è tutto se ti è piaciuto metti un like condividilo con i tuoi amici iscriviti al canale